Per me l'accezione è imprendibile, ha un'accezione più negativa, nel senso che significa avere delle barriere, delle cifure, delle corazze, per avere qualcosa per cui non si riesce a riscogliere. E questo per un attore non lo può fare, deve rendersi prendibile, generabile, deve rendersi evi. E crea per le barriere, può diventare atto, può trasformarsi in altre cose nelle relazioni. Quando ti crei quel rapporto di fiducia per cui ti gioco la tua vulnerabilità, poi ti rende prendibile, scopri delle cose tue, e scopri nella relazione con l'altra persona, quindi con il tuo regista, con il pubblico, un personaggio che sta interpretando, scopri delle cose che altrimenti non verrebbero fuori. Questo credo che sia la magia quando succede il nostro mestiere di attore.